In Italia si è molto parlato della vicenda del professor Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica, che nel 2014 in Senato ha pronunciato questo intervento. La prima osservazione è che il clima della Terra ha sempre cambiato, è sempre cambiato. Oggi noi pensiamo, in un certo senso, probabilmente in maniera falsa, che se non facciamo nulla, se teniamo la CO2 sotto controllo, il clima della Terra resterebbe costante. Questo non è assolutamente vero. Ciò è stato non poco perplessità. Se una persona come Rubbia si esprime in questo modo significa che ci saranno delle ragioni, però andando a vedere il suo discorso e anche altri discorsi, si vede che in realtà le sue affermazioni non sono propriamente negazioniste. Infatti lui stesso si contraddice più e più volte. E intorno all'80 abbiamo cominciato a notare un cambiamento sostanziale di temperatura che è aumentata essenzialmente dovuto presumibilmente alla presenza di gas di serra e l'aumento che noi vediamo è rappresentato da queste dimensioni. Quindi dal 1935 al 2000 c'è effettivamente il rischio e anzi la grande probabilità di ottenere un aumento di cambiamento climatico di un fattore 2. E oggi il cambiamento climatico del CO2 è un aumento esponenziale che non ha neanche dimostrato una tendenza a ridursi, sta continuando ad andare liberamente come un'esplosione di questo genere. Un altro cavallo di battaglia di Rubbia di molti negazionisti è anche il seguente. Vorrei ricordare e chiedo al ministro conferma di questa cosa che dal 2000 al 2014 la temperatura della Terra non è aumentata, è diminuita, è diminuita di meno 0,2 gradi. Vediamo che negli ultimi 17 anni e 5 mesi non c'è stato nessun segnale di aumento di temperatura media della Terra e quindi non c'è stato global warming. Avrà ragione Rubbia, speriamo di sì. Saremo tutti più tranquilli sul nostro futuro. Ma siccome sono scettico anch'io, ho voluto vederci più chiaro. I dati di Rubbia derivano dallo studio HADCRUD3, pubblicato dal National Meteorological Office, un ente di ricerca pubblico inglese che si occupa di clima. Il grafico è esattamente questo. Questi dati arrivano fino al 2014, l'anno della conferenza di Rubbia. Ma proviamo a vedere cosa succede se completiamo il grafico con i dati provenienti dal nuovo studio del National Meteorological Office, chiamato HADCRUD4. Effettivamente Rubbia non poteva sapere che appena un anno dopo la sua conferenza, la temperatura globale avrebbe fatto un enorme balzo in avanti di circa mezzo grado. Quei famosi 15 anni in cui non c'è stato riscaldamento erano semplicemente questa isola felice, in mezzo ad una chiara tendenza al riscaldamento, sempre più ripida e sempre più veloce. Come se non bastasse, i dati di HADCRUD4 sono anche piuttosto ottimisti. Infatti i dati più accreditati provenienti dalle misurazioni satellitari della NASA mostrano una situazione ancora peggiore, con picchi mensili che arrivano a quasi un grado e mezzo di aumento di temperatura. Oltre a Rubbia, anche il fisico Antonio Zichichi è sempre stato molto critico sul cambiamento climatico. Lui afferma che non è possibile risolvere matematicamente le equazioni del clima. E questo è vero, ma gli studiosi già da diversi decenni le risolvono per via numerica, quindi il problema non sussiste. Inoltre fa spesso un esempio, se le previsioni medie non ci azzeccano dopo pochi giorni, figuriamoci se possiamo prevedere il clima tra vent'anni. Beh, ma a parte che ormai i cambiamenti climatici sono una realtà, per cui non si tratta più di previsioni ma di misurazioni. E poi Antonio Zichichi dovrebbe sapere, e lo saprà sicuramente, che medio e clima sono due cose ben diverse. Sono convinto che lo sai anche tu, ma se non lo dovessi sapere, clicca no e te lo spiego. Grazie a tutti.